è in arrivo un altro bel tigrone, forse senza graffiti forse, 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 ho parlato troppo presto ho parlato troppo presto, però sta andando, è un bel cento di intervola quasi turisti, ucraini, credo che sono turisti, non lo so, voglio sentire parlare prima più o meno, per quello che ho capito, non era tedesco, neanche francese, neanche inglese grazie a visione, salve a tutti